Due gambe sono unite insieme, le mani dietro la testa, due piedi sentiamo che si toccano, le caviglie si toccano, le ginocchia si toccano, i gomiti sul pavimento. Chiudiamo i gomiti, prendiamo l'aria, alziamo la testa e saliamo più che possiamo verso le ginocchia. Vuol dire che stacchiamo più vertebre, non solo il collo. Scendiamo inspirando, apriamo i gomiti, stendiamo la gamba destra su verso il soffitto balerina, piede a martello, la incrociamo sopra quest'altra, pesante, i gomiti per terra. Le gambe vanno a destra, butto fuori l'aria, uno, torno. A sinistra due, torno. Tolgo, incrocio, chiudo due gambe insieme, stop. Subito, in un secondo due, creo le posizioni, i gomiti per terra, le gambe hanno la stessa lunghezza. chiudo i gomiti, prendo l'aria, sollevo la testa, vado più su che posso, espiro l'aria, svuoto la pancia. Scendo, apro i gomiti, stendo la gamba sinistra balerina su verso il soffitto, martello, la piego, appoggio stretta, prendo l'aria, le gambe vanno a sinistra, espiro l'aria, non c'è spazio tra le gambe perché le gambe sono completamente chiuse insieme. Torniamo e andiamo a destra. I gomiti non si staccano. Torniamo, togliamo incrocio. In ogni posizione che abbiamo fatto le gambe chiuse insieme, dedicheremo dieci tempi per aumentare questa posizione, per avere muscoli molto più lunghi e le posizioni molto più avanzate. Iniziamo, gomiti chiusi sulla testa e per dieci secondi saliamo. Uno, per dieci tempi. Due, non si dondola. Tre, in una direzione. Quattro, noi siamo elastico. Cinque, lo posso allungare dove vogliamo. Sei, sette, sto aumentando. Otto, nove, dieci. Scendo, apro i gomiti. Stendo la gamba destra su, ballerina. Uno, sto aumentando. Tre, la gamba tocca la fronte. Quattro, non si dondola. Cinque, non si muove. Sei, sette, si sta avvicinando. Otto, ogni millimetro. Nove, dieci. Martello. Uno, senti polpaccio. Due, tre, respira. Quattro, cinque di più. Aumenta. Sei di più. Sette, otto, nove, dieci. incrocia pesantissima la gamba. Le gambe vanno a destra e molla. Uno, due, svuota la pancia. Tre, gomiti per terra. Quattro, aumenta. Cinque, respira. Sei, aumenta. Sette, otto di più. Nove, dieci. torniamo e andiamo dall'altra parte. Vai a sinistra e scendo, svuoto la pancia. Le gambe scendono a sinistra. Vado a toccare il pavimento. Due gomiti sul pavimento, soprattutto il destro, la spalla a destra, la scapola a destra. Vai, svuotati. Leva lo stress. Leva lo stress. Vai. torna. Vai. Togli incrocio. Prendi l'aria. Due gambe chiuse insieme. Chiudi i gomiti. Vai su. Espira l'aria. Respira. Su. I gomiti toccano le ginocchia. Le gambe sono insieme. Vai ancora chiuse insieme le gambe. Sali. Aumenta. Svuota la pancia. Rilassa la muscolatura. Se vuoi allungarla. Nove. Dieci. Scendi. Apri i gomiti. Gomiti toccano il pavimento. Sollevo la gamba sinistra. Ballerina cresce. Ballerina cresce. Vai ancora. Tocco la fronte. Tocco la fronte. La muscolatura si allunga. Non si contrae. Vai ancora. Aumenta. Gomiti per terra. Bacino sul pavimento. respira. Spira. Nove. Dieci. Piedi a martello. Prendi l'aria. Tira la gamba verso la fronte. Uno. Stesa. Due. Stesa. Tre. Allungala. Quattro. Senti la gamba. Cinque. Aumenta. Sei di più. Sette. Molto di più. Otto. Dai ancora ancora. Nove di più. Dieci. Incrociala. Pesantissima. Ok. Andiamo a sinistra. Le gambe scendono. Scendono. Tre gomiti sul pavimento. Cinque. Sei aumenta. Sette di più. Scendono le gambe. Scendono. Scendono. Nove. Dieci. Torna e vai a destra. Espira l'aria. Uno. Svuota la pancia. Due. Svuota lo stomaco. Tre. Svuota polmoni. Quattro. Cinque. Gomiti per terra. Sei. Dai. Aumenta. Sette di più. Otto di più di più. Nove di più. Dieci. Torna. Togli incrocio. Dobbiamo veramente recuperare le spalle. Abbraccia due ginocchia. Oh. Il mento è dentro. Due ginocchia toccano il petto. Pieda balerina. Uno. Due. Vado a toccare il petto. Tre. Giù le spalle. Quattro. Aumenta. Cinque. Balerina. Sei. Sono un elastico. Sette. Otto. Aumenta. Nove. Dieci. Stendi la gamba destra giù. Prenditi la caviglia sinistra con la mano sinistra. Prendi il ginocchio e la caviglia sopra. Sopra la caviglia. La gamba destra sul pavimento. Il ginocchio sinistro. Tocca il petto. Uno. Due. Tocca. Tre. Sto tirando la gamba. Quattro. Apri il petto. cinque. Due spalle sul pavimento. Sei. Abbiamo preso il ginocchio e la caviglia. Nove. Dieci. Abbraccio due ginocchia. Due piedi a martello. Tiro le gambe dieci tempi con i piedi a martello. Le gambe toccano il petto. Uno. Due. Toccano. Tre. Aumenta. Quattro. Aumenta. cinque di più. Sei. Non si dondola. Sette. Ci si rilassa. Otto. Stiamo tirando. Nove. Dieci. Due piedi a ballerina. Stendo l'altra gamba giù. La gamba sinistra va giù. Prendo la caviglia destra con la mano destra. Prendo il ginocchio e appoggio la gamba sopra il petto. Apro il petto. il bacino e pari il mento dentro. Uno. Due piedi a ballerina. Tre. Sto tirando più forte. La gamba tocca il petto. La gamba tocca il petto. La sto tirando. Sei. Aumenta. sette di più. Otto di più. Nove. Dieci. Giù due gambe stesse insieme. Sollevo le braccia. Chiudo due mani insieme. Intreccio le dita delle mani. Mando le braccia dietro. Stese. schiaccio due mani insieme. Due piedi a ballerina. E ora spingo la schiena sul pavimento. Uno. Ballerina tocca il pavimento. La schiena tocca. La schiena tocca. Mi sto rilassando. Non posso essere contratta. Non posso. Mi sto rilassando. Tolgo lo stress. Pieda ballerina. Respira. Allunga. Respira. Allunga. Aumenta. Ancora. 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 Bene. Piega le gambe. Abbraccia le gambe di sotto. Apri le gambe come larghezza delle spalle. Intreccia le dita delle mani. Intreccia le dita delle mani. Le gambe sono larghe. 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 Aperte. Sto girando. Le gambe piegate. Dormono. Sto girando i piedi. Uno. Smuovo le caviglie. Due. Le dita dei piedi. Tre. Percepisco ogni millimetro. Quattro del mio movimento. Cinque. Aumento. Sei di più. Sette di più. Otto. Cambio il giro. Aumento. Uno. Vai. Due. aumento. Tre di più. Quattro. Aumenta. Cinque di più. Sei di più. Di più. Sette. Otto. Due piedi a martello. Uno. Prendo l'aria. Stendo le gambe su. E dieci tempi per aumentare. Non lascio le mani. Le gambe aperte. Uno. sto mollando. Sto mollando. Sto mollando. Non sto contraendo. Mi sto rilassando. Sto tirando le gambe su. La pancia è vuota. Il bacino sul pavimento. Sto dormendo. Martello. 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 chiudo due gambe insieme. Sollevo la testa. Piedi a martello. Vado su con le mani. Forse prendo avampiedi. Forse prendo le caviglie. Vado a toccare le mie gambe stese. Martello. Uno. Due. Martello. Tre. Sto salendo. Quattro. Sto tirando. Cinque. Sto tirando. Sei. Sto aumentando. Sette di più. ancora. Otto. Sto aumentando. Nove. Dieci. Giù il piedi. Giù le gambe. Giù la testa. Giù le braccia. Le gambe piegate. Appoggiate. Stop. Posizione della rana. apro le braccia. Allargo le dita delle mani. Il mento è dentro. Sollevo il bacino. Curvo su. Scendo. Inspiro. Sollevo. Allungo. Scendo. Inspiro. curvando. Sollevo. Scendo. Attenzione perché vado su. Rimango allungando. Vai su. Stretching. Due. Tre. Quattro. Cinque di più. Sei. Stai aumentando. Sette. Otto. Nove. Dieci. scendiamo. Allarghiamo molto le gambe. Dondoliamo con le gambe larghissime. A destra tocchiamo il pavimento. a sinistra tocchiamo il pavimento. A destra tocchiamo. A sinistra tocchiamo. A destra tocchiamo. A destra tocchiamo. a sinistra tocchiamo. Torniamo in centro. Chiudiamo due gambe insieme. Ci mettiamo a sedere. Facciamo la quadrupedia con la testa verso il cerchio. la testa verso il cerchio. Apriamo le gambe come larghezza delle spalle. Allarghiamo le dita delle mani. allunghiamo il collo. La testa è allineata con il coccige. È sullo stesso piano. piedi a ballerina. Curvo la schiena. Curvo come cani e gati. Curvo. Le braccia sono sempre stese. La fronte tocca al pube. La fronte tocca al pube. La schiena tocca il soffitto. Su. 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 chiudi la testa verso il pube. Chiudi la testa verso il pube. Verso il pube. Vai dietro con i glutei sopra i talloni. Appoggia i glutei sopra i talloni. Non spostare le mani. sulla testa guarda il soffitto. Sali guardando il soffitto. Torna su. Hai inarcato la schiena. Guarda. Alza la testa. Alza. 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 Torna dritta. Stop. piedi a martello. Prendo l'aria. Le braccia stese. Non si piegano mai. Curvo la schiena. Ho dieci tempi per aumentare. Uno. Due. tre. Sto aumentando. Quattro. Cinque. Svuoto la pancia. Sei. Svuoto la pancia. Sette. Aumento. Otto di più. Nove. Dieci. Cambia. in arca. Guarda. Il soffitto. Alza la testa. Le braccia stese. Le gambe sono piegate. Piegate. Martello. Uno. Due. Sedere a papera. Tre. Le braccia stese. quattro di più. Cinque di più. Sei. Mi sto rilassando. Sette. Otto. Nove. Dieci. Piedi a ballerina. Vai dietro con i glutei. le braccia dietro sul pavimento. Le braccia sono sul pavimento. Sto dormendo. Completamente. Uno. le spalle toccano il pavimento. I gomiti toccano il pavimento. Il palmo della mano verso il soffitto. Sto dormendo. Completamente rilassata. La fronte dorme sul pavimento. torniamo quadrupedia. Ok. Il braccio destro va a sinistra. Sotto. Braccio destro. Appoggio la guancia destra. L'orecchio destro. Alzo il braccio sinistro su. Verso il soffitto. E lo mando dietro. Steso. Steso. Braccio è steso. la mano è aperta. La mano verso il soffitto. Girare. Il braccio come una spada che vuole toccare il soffitto. Uno. Due. Sto dormendo. Tre. Sto dormendo. Quattro. Cinque. Lo stato d'animo. Sei. Proprio di dormire. Sette. Non c'è nessuna contrazione. Otto. Piedi rilassati. Nove. Dieci. Torniamo. Creiamo la quadrupedia. La posizione corretta. Il bacino è pari. Allunga il collo. Le spalle. Prendi l'aria. Vai dall'altra parte. Espira l'aria. Braccio sinistro. L'orecchio sinistro. La guancia sinistra. Alzo il braccio destro come una spada verso il soffitto. e aumenta. Respira. Uno. Due. Aumenta. Tre di più. Quattro. Aumenta. Gira il braccio. Gira aprendo la spalla. Aprendo la spalla. Aprendo la spalla. Nove. Dieci. Torna completamente allineata. Due gambe chiuse insieme. Piedi a martello. Schiaccio due talloni. Stendo le braccia. La testa ha la stessa lunghezza del coccige. Prendo l'aria. Stendo le gambe. Espiro l'aria. Due talloni sul pavimento. Uno. La testa tocca i piedi. Tre aumento. Quattro aumento. Cinque tocco i piedi. Sei tocco i piedi. Sette tocco i piedi. Otto aumento. Nove. Dieci. Torniamo. La pancia sul pavimento. Due braccia stese avanti. Due gambe chiuse insieme. Appoggio la fronte. Due talloni uniti insieme. Allargo molto le dita delle mani. Appoggio la fronte. Allarga molto le dita delle mani. E il pollice. Non tocca il pollice. Perché? Perché apri le braccia come larghezza delle spalle. Come larghezza delle spalle. Su chiara le braccia. Ok. I talloni sono uniti insieme. Si toccano. Piedi a ballerina. Piego le gambe. Talloni uniti insieme. Uno. Abbasso. Espiro. Piego le gambe. Due. Abbasso. Inspiro. La fronte dorme sul pavimento. Piego. Tre. Abbasso. Inspiro. Piego. Quattro. Sollevo le braccia. Apro le braccia. Appoggio sopra le cosce dietro. Stop. Le gambe sono piegate. Unite insieme. Le mani sopra le cosce dietro. Piedi uniti insieme. Ballerina. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. mollo tutto. Apro le braccia. Allargo le dita delle mani. Apro le gambe. Larghissime. Larghissime. Due piedi a martello. I talloni sono dentro. Appoggio talloni sul pavimento. Schiaccio. E anche se appoggio allargo le gambe di più. Di più. Di più. Giro la testa a destra. Dieci tempi per stringere i glutei. Abbassare il bacino sul pavimento. Dormendo. Uno. Due. Sto spingendo. Tre. Sto respirando. Quattro talloni per terra. Cinque. Spingo il bacino. Sei. Spingo il bacino. Sette. Spingo il bacino. Otto di più. Nove. Dieci. Lentamente cambio. Il naso struscia sul pavimento. Appoggio l'orecchio destro. La guancia destra. Uno. Spingo. Tre. Respira. Quattro. Aumenta. Cinque. Di più. Stringi glutei. Stringi. Spingi. Taloni. Allarga le gambe. Di più. Ancora. Aumenti. Aumenti. Bene. La fronte tocca al pavimento. Due mani. Prendono i piedi. Prendo i piedi. Prendo i piedi. La fronte sul pavimento. La fronte sul pavimento. Prendo. Prendo l'aria e salgo su. Uno. Due. Sto dormendo. Tre. Sto dormendo. Quattro. Sto dormendo. Cinque. Sei. Sto dormendo. Sette. Otto. Nove. Dieci. Relax. Giriamoci su noi stessi. Le gambe sono piegate, aperte come larghezza delle spalle, le braccia lungo il busto. La testa gira a destra. Uno. Non la devo alzare. A sinistra. Due. A destra. Uno. E a sinistra. Due. Torniamo in centro. Stop. Appoggiamo le mani sopra il petto. Respiriamo solo con il naso. La bocca è chiusa. Percepiamo solo il petto che si alza e che si abbassa. Prendiamo tutto il tempo per fare questo esercizio.